...ha superato i 2400 miliardi, mentre gli investimenti si avviano verso i 400 miliardi. Un iconeo causato proprio da questi investimenti, gli utili streaming city. Ebbene oggi affrontiamo un argomento, direi piuttosto classico, forse anche un po' più semplice. Il FAR, perché dalle lettere, dalle telefonate che riceviamo al nostro telefono amico trucco, stiamo constatando che tantissimi di voi avete dei problemi, perché non sapete, da quello che si sente, dove applicare il vostro FAR. Un aiuto. Balsamo si...